signori buonasera buonasera buon pomeriggio anzi perché in realtà io registro adesso che è tardi ma voi lo vedrete di pomeriggio breve video semplicemente per dirvi che è finito infatti registro adesso è finita la campagna kickstarter per il poliquist show episodio 3 campagna kickstarter iniziata durante l'episodio 2 quindi poco dopo l'otto maggio terminata oggi ovvero il 4 luglio 2022 cosa dire ragazzi sono stati raccolti 4000 euro per la campagna kickstarter è una cifra gigantesca purtroppo non mi arriveranno 4000 euro per poter fare l'episodio bensì me ne arriveranno pochino meno perché tra tasse di kickstarter e tassi italiane visto che va tassata come donazione ovviamente devo capire appunto quanto sarà però insomma è una cifra gigantesca a prescindere ci stiamo impegnando molto per realizzare l'episodio che peraltro quando vedrete questo video probabilmente mancheranno circa 20 giorni anzi ne approfitto per dirvi che sul mio instagram e appunto in generale in questi giorni su su twitch ne stiamo parlando della data e riporterò qui nei prossimi giorni il trailer proprio ufficiale con data ora e chi sono i tre alter ego video ludici dei concorrenti stay tuned che in questi giorni vi faccio sapere data ora e i personaggi manca poco manca veramente molto poco con questa cifra realizzeremo delle belle cose le vedrete appunto sia durante la giornata del poliquiz show sia i giorni a seguire del poliquiz show non posso dirvi altro però capirete dopo stiamo già iniziando anche a lavorare alla finale che si terrà ovviamente i vincitori che sono dario moccia marco merrino e uno di loro tre sarà appunto finaliste stiamo già iniziando a lavorare alla finale del quiz ovviamente la finale si sarà ad autunno raga novembre dicembre perché ad agosto non faremo un cazzo ci prendiamo un mese di pausa per poi riprenderci a settembre a proposito di settembre un altro piccolo annuncio che voglio fare è che ci saranno delle importanti novità che annuncerò proprio durante il quiz episodio 3 che riguardano appunto canale e non solo voglio entrare nello specifico però quando guarderete lo show capirete e infine un'ultima cosa che è più una un'attenzione che vi devo dare la campagna kickstarter è terminata peraltro grazie ancora a tutti quanti quelli che l'hanno raggiunta eccetera eccetera però attenzione perché le donation o comunque chi ha supportato le 103 persone che hanno supportato su kickstarter non chi ha donato su paypal ma su kickstarter alcune di esse attenzione non tutte in base alla tipologia di carta che avete utilizzato vi potrebbe essere arrivata una mail di conferma della donazione in realtà credo che sia solo per le cifre piccole tipo chi ha donato magari 5 euro 2 euro andate a verificare che nella mail associata a kickstarter non abbiate appunto una una mail che di conferma che vogliate donare ovviamente considerate il fatto se volete ancora donare insomma non è cambiato niente anzi avete solamente avuto delle informazioni aggiuntive e capire come i vostri soldi verranno utilizzati credo che viking saidonia e michele siano un bel trio molto importante volete potete confermare la donation e quindi semplicemente volevo rubarvi 4 minuti per dirvi 4.000 volte grazie in realtà 3.950 però 4.000 volte grazie perché 4.000 euro raccolti per uno show significa che la fiducia che abbiamo dimostrato ho dimostrato sugli episodi precedenti è finalmente ripagata e sono molto 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 contento di aver visto così tanto supporto sarò molto sincero non vedo l'ora di farvi vedere l'episodio l'episodio sarà diverso non voglio dirvi il perché dovete vederlo dovete aspettare fine mese circa metà di fine versi l'ultima settimana del mese capirete bene il perché ci sono ospiti molto bravi quindi le domande sono cazzute aspettatevi un vero e proprio quiz sui videogiochi e non quiz show chiaramente di show ce n'è ovviamente tanto però in questa volta lo facciamo veramente da gioco infatti voi che avete partecipato al kickstarter e riceverete il copione del gioco del quiz eccetera sarete molto contenti fidatevi di me apprezzerete veramente veramente tanto quello show e determinate cose extra che vi verranno mandate che però al momento non posso spoilerare dovete vedere appunto lo show a fine mese non voglio rubarvi altro tempo vi ringrazio ringrazio anche tutti quelli che passano mi mandano un messaggio su instagram tuttora il video ha fatto 120.000 visual continua a crescere andare bene grazie davvero a tutti quanti godetevi gli episodi perché sta per arrivare il terzo quindi fatevi il rewatch prima del terzo e poi ci prenderemo un mesetto in più per lavorare alla finale che sarà qualcosa di leggendario però siamo ancora in anticipo non voglio darvi altri spoiler mi mordo la lingua perché vorrei potervelo dire ma abbiamo preparato qualcosa di veramente cazzuto ecco diciamo anche però là c'è vaffanculo la monetizzazione su youtube tanto chi se ne fotte regà a presto grazie ancora 4.000 volte a tutti voi che avete supportato tra instagram tra paypal e kickstarter le ricompense ovviamente stanno arrivando abbiamo già iniziato a darne alcune tenete d'occhio la mail kickstarter perché arriveranno un po alla volta tutte le ricompense che vi sono state promesse grazie davvero a tutti quanti buon pomeriggio buona giornata buona serata bacione 4.000 volte grazie da poli da mattia e da tutto il team del poli quiz show che non vede l'ora di mostrarvi il prossimo lavoro in arrivo tra veramente poche settimane a presto ciao 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 ciao